Gli occhi, fatti, coi palmi delle mani, contorni delle pupille, che sono due lampade appese sopra il tavolo delle operazioni. Oppure no, solo due uova che sodano, rumore di metallo e ragione che sbatte oppure si appanna. La non ha, in, i per, mi è un sì. Se io le sono, no. La non ha, in, i per, mi è un sì. Se io le sono, no. Un po' più lento. La non ha, in, i per, mi è un sì. Se io le sono, no. Un po' più lento e un po' più a fondo. La non ha, in, i per, mi è un sì. Se io le sono, no. E un secondo dopo essere entrato, mi resi conto che già ero lì. La vastità della montagna si dissolse ai miei piedi. Gli occhi temanti sprofondarono in visioni di vedersi gettati nel vuoto e la parte alta della testa sospesa. L'unica parte che riconosco con certezza. La mia vita si svolge all'altezza degli occhi, in orizzonti diretti. Non avevo mai notato questa altra dimensione con così tanta coscienza. Oppure gli occhi fatti coi palmi delle mani, contorni delle pupille che sono due lampade appese sopra il tavolo delle operazioni. Oppure no, sono due uova che sodano, rumore di metallo e ragione che sbatte oppure si appanna.